Ogni uomo. Perché ogni uomo è un medium? Commento. Perché ogni umano è in contatto con i piani superiori di esistenza. Tutto dipende dall'intensità e dall'elevatezza del contatto. Socrate, ad esempio, confessava di avere a consigliere un suo demone, una sorta di Angelo Custode. Alarico il re dei Visigoti riteneva di essere ispirato da una voce intima che lo sollecitava a marciare contro Roma. La voce diceva avanti, avanti, distruggi Roma. San Francesco d'Assisi e Angela da Foligno udivano una voce intima che li suggeriva. A Giovanna d'Arco le voci rivelavano il loro piano durante l'esecuzione della battaglia. La santa ubbidiva alla sua voce. Essa stessa si meravigliava della potenza di una manifestazione che le consentiva, nonostante fosse una contadinella, di mutare il corso di eventi che poi sono stati storici.